Sessore Sonia Viale, seconda presentazione del Libro Bianco per gli stati generali della Sanità Ligure, siamo al San Martino. Quali spunti da questo secondo incontro dopo quello dell'Evangelico? Sicuramente questo è un primo incontro qui a San Martino, ne faremo anche un altro aperto anche alle più persone che lavorano qui a San Martino. Direi che degli spunti ovviamente fondamentali per avere una visione di insieme della sanità in Liguria, il San Martino è un punto di riferimento per tutta la regione, non deve essere soltanto per l'area metropolitana, è un'eccellenza della nostra regione e quindi dobbiamo molto lavorare per far sì che l'Istituto San Martino lavori assieme alla regione e alle altre aziende ospedaliere. Devo dire che su questo ho trovato grande collaborazione e siamo nella direzione giusta per andare a fare quella svolta importante anche nel nostro territorio libre. C'è un fito calendario di incontri e dopo questi incontri si tireranno le somme. Quando si potrà prevedere di avere un piano più ampio e dettagliato sul livello regionale? Il mese di marzo sarà dedicato agli incontri sui territori nelle asle e nelle aziende ospedaliere. Il mese di aprile incontrerò tutte le presidenze, tutte le conferenze dei sindaci con ovviamente i sindaci presidenti e dopodiché alla fine di aprile faremo il punto della situazione, quindi un convegno, un incontro di medio termine per poi iniziare a scrivere la riforma come già evidenziato nel cronoprogramma del Lino Bianco a maggio e giugno.